Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Traffica al momento regolare sulla rete autostradaria regionale e in FIPILI. Prudenza per vento forte e per pioggia su gran parte della regione. Per le statali sull'Aurelia, tratto chiuso per un incidente tra Orbetello Scalo e il Bibio Permagliano in Toscana, tra i chilometri 146 e 150 all'altezza di Albinia, deviazioni sulla SP La Parrina. Ci spostiamo sulla strada Le Trebisti Berina e 45, prudenza per fondo stradale dissestato tra Val Savignone e San Carlo nei due sensi di marcia. Prima di salutarci per il traffico navale, il traghetto Piombino-Cavo delle 12.20, quest'oggi è cancellato per maltempo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!